Sì, sì, partita tozza, lo sapevamo, già all'andata ci hanno dato filo alla torcia, oggi sono venuti più concentrati anche nell'ultima partita, abbiamo dimostrato di essere più forti e se veniamo al completo è difficile batterci. Fatto bene, lo sappiamo, calcia come forse nessuno in questa lega, le punizioni, ha fatto 10 minuti alla grande, ci ha fatto vincere, poi il gesto ci sta, ma è una partita un po' sentita, magari ha sbagliato, però ci può stare, anche perché all'andata, anche oggi, non è che loro hanno fatto niente, non è che sono stati zitti. Sì, ormai sono quasi tre anni che giochiamo insieme, abbiamo riuscito, forse quest'anno siamo riusciti a organizzarci meglio, anche fino all'anno scorso, magari ci stava la partita un po' storta di qualcuno che muoveva tutti gli equilibri, ora veniamo più concentrati, siamo più gruppo, anche se manca il mister, ci sta Maurizio, ci sta Alessio Piccli, c'è una grossa mano, ci siamo compattati e per fortuna anche senza Mr. Pinna oggi siamo riusciti a vincere. Grazie, in bocca al lupo a Rocco Giordano. Grazie a tutti.